Ciao, sono la dottoressa Giulia Pantalone e oggi voglio parlarti di un prezioso agliato, lo yogurt. Infatti puoi utilizzarlo nella dieta, sul viso e da oggi anche sui capelli. Allora, per quanto riguarda la dieta, lo yogurt grazie al suo contenuto in fermenti lattici riesce a regolare le funzionalità intestinali e quindi facilitare il corretto funzionamento del nostro organismo. Oltretutto è ricco di sali minerali, vitamine e di grassi buoni. E quindi rappresenta una deliziosa merenda spezza fame. Mentre per quanto riguarda il viso, viene utilizzato sotto forma di maschere per migliorare l'idratazione della pelle e la sua luminosità. Potresti infatti realizzare due maschere semplicemente addizionando tre cucchiai di yogurt bianco o tre cucchiai di miele. Che puoi lasciare poi in posa per agli circa una quindicina di minuti e risciacquare con acqua tiepida. Mentre la seconda combinazione è utile per chi presenta la pelle che tende ad arrossarsi. Ed è costituita da un cucchiaio di yogurt bianco associato a camomilla. Puoi applicarlo anche in questo caso sul viso per agli circa una quindicina di minuti e puoi risciacquare con dell'acqua tiepida. E mentre per quanto riguarda i capelli, lo yogurt è un elemento essenziale per chi presenta per l'appunto problemi di secchezza. Puoi applicarlo praticamente sui capelli prima di fare lo shampoo e lasciarlo in posa per agli circa una trentina di minuti. Grazie per l'ascolto e ricorda che la farmacia di Nardo fa cuore il tuo benessere.